Si terrà il prossimo 17 dicembre alle ore 20 lo spettacolo teatrale di Beneficenza presso il Cineteatro Edoardo De Filippo ad Agropoli. Tanti gli artisti agropolesi che si sono messi a disposizione per l'evento di Beneficenza che raccoglierà fondi da destinare alla Croce Rossa italiana Comitato di Agropoli e del Cilento. Purtroppo sono due anni il Comitato, la Croce Rossa, ha perso molte attività e quindi i ricavati, le assistenze, i trasporti purtroppo sono venuti meno. E siamo andati un po' in difficoltà anche perché abbiamo risposto a una gara di 118, abbiamo acquistato due ambulanze nuove e purtroppo per sostenerle abbiamo bisogno di un supporto da parte un po' di tutti. Abbiamo pensato, grazie anche a Cilento Channel e in modo specifico a Raffaella che ci sta sempre accanto e ci supporta quotidianamente, a questa serata. Abbiamo pensato a questa serata di Beneficenza che si svolgerà il 17 di dicembre, venerdì. Abbiamo voluto, anzi ho voluto questa data perché io sono contro, anticonformista come si sol dire e quindi ho voluto questa data. In questa serata tutti gli attori verranno in modo gratuito, quindi offriranno il loro spettacolo per la gente, per la comunità e tutto il ricavato andrà alla Croce Rossa per sostenere il comitato. Ci saranno degli ospiti importanti, ma in primissima voglio ringraziare Pierluigi Iorio che ci sta indirizzando, sarà il direttore artistico, ci sarà Umberto, il nostro grande Umberto Naglerico con il maestro Costantino Caruccio, ci sarà Massimo Sica, quindi abbiamo anche il Cilento, quindi ci rappresenterà anche il Cilento. Con noi ci sarà Modestino Rosiello che ritorna sulle scene, solo per noi l'ultima volta si è esibito al castello con l'Inferno di Dante e qualche giorno fa l'ho chiamato e ho detto Modestino abbiamo bisogno di te e lui immediatamente ha risposto sì per la Croce Rossa ci sono sempre e lo ringrazio. Ci sarà il maestro fedele Ciccarino con il suo flauto. Ci saranno qualche ospite a sorpresa molto probabilmente, ma quello che voglio è la presenza della comunità, delle persone che vogliono sostenere il comitato di Agropoli. La Croce Rossa ha bisogno di tutti e tutti hanno bisogno di una sanità, di una sanità vera che purtroppo ultimamente lascia un po' a desiderare. Dal 2013 abbiamo perso il servizio di 118 e quest'anno abbiamo risposto alla gara e con grande impegno e sacrificio stiamo sostenendo queste spese. Purtroppo se la gente non ci aiuta non possiamo continuare a sostenere questi costi per le ambulanze con la speranza che possiamo iniziare il servizio prima possibile e quindi avere assegnato il servizio di 118. L'appuntamento sarà venerdì 17 dicembre presso il Cineteatro di Agropoli di Filippo. Ringrazio l'amministrazione comunale che ha messo a disposizione per questa serata questo splendido teatro. Ringrazio in modo particolare Vanna D'Arienzo che è sempre accanto e vicino al nostro comitato. Il costo del biglietto è di 10 euro. Si può acquistare presso il Bar Napoli in via Marco Polo ad Agropoli o sulla pagina Facebook di Cilento Channel magari in privato o sulla pagina Facebook della Croce Rossa Comitato di Agropoli e del Cilento oppure davanti al botteghino la sera del 17. Io vi ringrazio già da oggi e certa di avere una massiccia presenza.